Allora, buongiorno a tutti quanti e benvenuti alla prima giornata di questi laboratori dal basso che abbiamo organizzato. E volevo lasciare immediatamente la parola al padrone di casa, ovviamente ringraziandolo anche per la possibilità che ci ha dato di fare queste tre giorni qui al teatro. Quindi il direttore dei Coreia. Allora, grazie a voi innanzitutto perché insomma avete scelto anche di fare queste tre giornate qui a Coreia. E come vedete siamo in una fabbrica, una vecchia fabbrica che è diventata un teatro. Questo dice già qualcosa un po' anche sui temi che affronteremo in queste giornate. Quindi era un luogo di lavoro materiale che si è trasformato in un luogo di lavoro, dicono, immateriale. Ma diciamo la cosa più importante che mi premeva sottolineare è il fatto che, diciamo, fa piacere che questa famiglia del teatro poi si allarga sul nostro territorio lavorando in molteplici direzioni e con anche differenti, come dire, finalità. Io poi interverrò al pomeriggio insieme agli altri esperti docenti del laboratorio. Però il tema di questo laboratorio dal basso è molto importante in questo momento di crisi, in cui si sfaldano anche le comunità, si sfaldano le relazioni sociali. Allora lavorare in una direzione che secondo me rafforza anche il senso di comunità nella nostra società è importante. Questo lo dovete fare soprattutto voi che siete giovani. Lo dobbiamo fare insieme per ricostruire anche nella nostra città, nel nostro territorio, questa idea di comunità che è importante. Perché se si dissolvono i legami sociali, le relazioni sociali, crolla la società, crolla il fondamento e la motivazione per cui noi veniamo alla vita. E quindi vi auguro un buon lavoro e una buona permanenza. Grazie. Grazie. Allora io aggiungo solo due parole e poi lascio la parola ai docenti di quest'oggi. Noi abbiamo organizzato, abbiamo immaginato di presentare ad Arti e a Regione Puglia questo laboratorio perché riteniamo che il settore del teatro possa essere un settore strategico anche di sviluppo dell'intero ecosistema Puglia. Lo riteniamo interessante questo sia perché è il lavoro che noi stiamo facendo, quindi ci stiamo investendo davvero tanto, ma anche perché riteniamo che la creatività sia un settore di sviluppo non solo ovviamente economico ma anche sociale del nostro territorio. E quindi lo riteniamo indispensabile da questo punto di vista come strumento. Infatti il tema appunto è il teatro fuori dal teatro, come avete avuto modo di leggere. Cercheremo di interpretare questo titolo in varie maniere, quindi in queste tre giornate, però con l'obiettivo appunto di fare impresa con il teatro, quindi di essere motore sia sociale e sia anche economico, come molto spesso lo siamo già, però non ci viene riconosciuto magari in questa cosa. E quindi insomma faremo dei lavori molto pratici e avremo anche poi degli esempi molto importanti dai quali magari potremo trarre spunto perché l'obiettivo finale è quello poi di creare qualcosa alla fine di questo laboratorio, sia a livello individuale ma magari anche di rete di persone. Quindi immagino che sia Salvatore Patera che Ezio del Gottardo avranno in mente un programma specifico per concreto, proprio per quagliare, quindi passo la parola a loro, poi mi piacerebbe fare un giro di presentazioni tra i presenti. La cornice è esattamente quella che ci hanno detto sia Franco che Fabio. Dobbiamo parlare di comunità ma significa che dobbiamo iniziare un po' a sperimentarci anche noi, quindi oggi metteremo proprio, ci sporcheremo le mani come direbbe Goffman e lavoreremo, quindi senza la classica lezione frontale da naftalina con le slide, nel senso avremo la possibilità di mettere insieme un po' quello che ciascuno di noi è portatore in termini di competenze, di vissuti, di esperienze e daremo un po' nella cassetta degli attrezzi alcuni strumenti per fare in modo di costruire un progetto basato sulle arti performative per promuovere lo sviluppo di comunità. Quindi sappiamo anche un po' rispetto alle esperienze che vediamo in giro, ci sono tante realtà anche che un po' improvvisano, fanno attività partecipative, fanno attività legate alle arti performative però con uno sfondo sociale, nel senso che non sono attività pensate per promuovere comunità, ma allatamente magari hanno qualche ricaduta. E questo è un po' anche un discrimine abbastanza interessante ed è quello da cui rispetto alle nostre competenze vogliamo partire. Con quali strumenti possiamo muoverci per utilizzare le arti performative? E come le arti performative non sono solo fine a se stesse, ma possono essere davvero progettate e valutate come un dispositivo per promuovere comunità. e vedremo anche rispetto ad un caso di studio che vi portiamo io ed Ezio, che abbiamo realizzato sul Gargano negli anni passati, negli ultimi due anni, e da lì partiremo, individuerete voi un problema sul quale vorrete confrontarvi, da lì pian piano costruiremo i vari step per arrivare poi alla fine ad avere un progetto vero e proprio. Alla fine della giornata che farete con noi vi restituiremo un report che sarà il frutto del lavoro di gruppo che avete fatto, quindi dei diversi step che avete fatto, e ve lo porterete a casa augurandoci che da lì si possa partire poi per magari metterlo in pratica per davvero. Sì, più che altro lavoreremo anche su un aspetto importante che è quello della rappresentazione legata al teatro. Cioè molto spesso il teatro nel sociale quando entra, anche se questo fattore fortunatamente sta cambiando, entra come un momento ludico, come un momento di svago, al massimo lo si lega alla crescita del pensiero creativo. Invece il teatro come dispositivo diventa fondamentale non solo per creare generatività sociale, quindi un sistema di relazioni, ma proprio come dicevamo prima, per creare sviluppo. Quindi per fare in modo che le persone mettano in campo una serie di competenze che creano altre competenze, altre conoscenze e soprattutto anche sviluppo economico. Allora, la risposta che cercheremo di dare attraverso degli strumenti sarà proprio questa. Come può trasformarsi il teatro da una rappresentazione sterile, quale momento ludico, momento riflessivo, a qualcosa invece che crea effettivi cambiamenti? Come può avvenire questo? Quindi questo lo seguiremo, sarà una domanda che ci porteremo appresso durante i nostri lavori. Ora facciamo un giro di presentazione, pure come diceva Fabio. Io sono Ezio, Ezio del Gottardo, collaboro, sono docente a contratto all'Università del Salento, segnista di ricerca all'Università della Valle d'Aosta, quindi faccio vai e vieni costantemente. E mi occupo di mitologie didattiche, collaboro con la cattedra del professore Colazzo, quindi lavoriamo anche molto sul tema del teatro e delle arti performative come community care. Vedrete a pomeriggio questa... Questo altro aspetto lo vedrete a pomeriggio. Basta, mi presento soltanto così. Ho un passato, un po' di animazione teatrale, più che altro. Ah, proprio quella classica? Ok. Toto Patera, anche io dopo un po' di anni sono ritornato nel Salento, questo per la serie. Quando ti trovi nei posti fuori a lavorare, la cosa che ti chiedono, l'ultima cosa che mi chiedono a Cuba, disse, ma come si sta nel Salento? Come stanno i tuoi genitori? E quindi dissi, ma probabilmente è il caso un po' di rimpatriare, perché molto spesso poi andiamo fuori cercando sempre le risposte che sono dentro di noi, e qualcuno dice, sono sbagliate, invece no. E l'occasione è proprio per iniziare a testarsi, a mettere in gioco tutte le cose che sappiamo, in un posto in cui, che davvero conosciamo bene. C'è un aneldo carino, c'era Gers che va ad incontrare una signora in una comunità in Sudafrica e chiede a questa signora, signora mi racconta i suoi, quali sono un po' i canti d'amore che avete voi nella vostra tribù, vorremmo saperle, sai io sono un etnografo, ho bisogno di sapere tutti questi canti, le vostre stagioni, le storie, la signora lo guarda e gli dice, carissimo Clifford, ma a Parigi c'è l'amore? Che devo dire, ma dopo questa cosa... Ha detto lui, mi ha detto. Allora, no, rapidamente, io sono Fabio Musci, sono il presidente di Improvvis Art, noi in realtà poi abbiamo visto un'esperienza fuori dal contesto pugliese, e grazie poi al bando di Principi Attivi del 2008 abbiamo immaginato di portarla qui in Puglia, quindi abbiamo creato la prima scuola di improvvisazione teatrale pugliese, facciamo parte di un circuito nazionale che si chiama Impro Teatro, che racchiude appunto tutte le scuole di improvvisazione d'Italia. Oltre a questo, ma grazie ovviamente al lavoro fatto con la scuola e con gli allievi di attori in formazione, realizziamo poi tutta una serie di altri interventi appunto che ci stiamo specializzando anche in interventi fuori dal teatro, quindi dall'animazione delle comunità all'edutainment e così via. Mi chiamo Maria Rosaria De Benedittis, sono di Nardò, mi dedico al teatro, diciamo, da 15 anni a questa parte, fondando un'associazione che si dedica soprattutto ai bambini. Ho collaborato con il teatro di Nardò, che è stato aperto circa cinque anni fa con la compagnia Terramare Teatro, quindi ho partecipato attivamente ai lavori del teatro comunale di Nardò, e adesso mi dedico soprattutto a questa associazione con animazione teatrale per i bambini e poi quasi per gioco è nato il personaggio di Bea Beatrice, la narratrice, la viaggetrice, vado in giro dove ci sono i bambini a raccontare storie, saltano fuori da queste valigie e racconto, faccio teatro dove non c'è il teatro praticamente, in qualsiasi posto, in qualsiasi angolo si fa questo teatro e c'è una grande soddisfazione, veramente una bella soddisfazione vedere l'incanto del bambino, vedere come il bambino si avvicina, ha bisogno, ha sete di queste attività. Noi ci preoccupiamo di... Oh, sto facendo una conferma, volevo solo presentare, sono partita, va bene, passo la parola. Ritornerai. Salve, buongiorno a tutti, sono Cinzia Mi, sono una docente di corsi di formazione per adulti, dai minori sino ai lavoratori in mobilità, lavoro su tutto il territorio regionale, e mi occupo fondamentalmente, le mie materie sono comunicazione e orientamento. Sono una neofita di questo settore, però penso che ci possa entrare alla grande sotto parecchi aspetti. Grazie. Io sono Daniela Laudisa, sono un'educatrice presso un centro per ragazzi svantaggiati, sono laureata in pedagogia, mi interesso del teatro da circa cinque anni a sta parte. Ho iniziato con una compagnia amatoriale, dialettale, poi siccome essendo appunto amatoriale non dava molto spazio alla crescita anche concretamente, diciamo che le compagnie amatoriali come si sa si basano molto sulla personale capacità o meno, quindi io avevo bisogno proprio di addentrarmi un po' di più nello specifico del teatro, quindi sono andata proprio alla ricerca di una scuola che per l'anno scorso è stata la Busacca, quindi ho frequentato per un anno il corso presso, non so se conoscete comunque una compagnia teatrale locale, è molto comunque conosciuta. Il corso sarebbe dovuto durare due anni, però in realtà è durato solo un anno perché si è stoppato, non abbiamo capito per quali motivi e quindi quest'anno, avendo ancora sete di conoscenza, sono andata alla ricerca nuovamente di un'altra scuola che poi sto frequentando praticamente presso una scuola, non è una scuola di teatro, praticamente è un'attrice polacca che fa questo corso, insomma al quale io poi mi sono iscritta da un paio di mesi che frequento. Mi sono appassionata ancora di più del teatro vedendo che ha una ricaduta molto importante verso i miei ragazzi che seguo al lavoro, con i quali ho cercato, ho iniziato a sperimentare diciamo questo bellissimo gioco che è il teatro, ma volevo arricchire maggiormente il mio bagaglio per poter lavorare meglio insomma con questi ragazzi che ne hanno tanto bisogno, anche perché il teatro si sa è terapeutico per eccellenza. Ho un'esperienza scout di lunghissima durata che secondo me mi ha aiutato molto nella scelta dell'attività teatrale perché secondo me è nato tutto da lì. Basta, niente più. Sono Antonio Rodia, ho appena conseguito il dottorato in filosofia due mesi fa e adesso sto per iniziare un master quindi ancora con la formazione, ancora con la catena di montaggio, quindi questa è un'ottima occasione per non diventare il protagonista insomma delle metamorfosi di Kafka. Grazie. Sono Chieco Mauro e volevo dire che a Parigi c'è l'amore. Sì, sì. Detto ciò sono uno degli amatori, degli attori amatori della scuola di improvvisazione teatrale, la scuola nazionale improvvisata di Lecce e tante altre cose. Io mi chiamo Alessandra Perrone e anche io sono stata un bel po' fuori e sono tornata in Salento da pochissimo quindi non conosco la realtà di qua però ho fatto un po' la scenografa e poi siccome per ovvi motivi non lo posso fare più, ho lavorato anche io tanto con i bambini, ho fatto anche un libro per loro che ha vinto un concorso che è una scenografia in miniatura visto che non me lo fanno fare in grande. Allora sono tornata qui e insomma sono curiosa di vedere cos'è che succede qui. Io sono Maria Rita di Don Francesco, frequento la magistrale in scienze pedagogiche all'Università del Salento, chi altro? Mi interesso di problematiche sociali e quindi credo che basti così. Però adesso, questo è il mio curriculum. Sono Giulia D'Amico e studio alla magistrale di filosofia scienze dell'educazione, ho esperienza con il teatro però nel senso a livello scolastico, nel senso che comunque la compagnia della butacca ci ha diretto in vari laboratori teatrali che ci hanno anche portato a partecipare al festival internazionale di Siracusa, del teatro classico e ho avuto la fortuna di vedere anche spettacoli dei Coreia. Conosco personalmente, ci ha anche insegnato un'attrice della compagnia, Maria Rosaria Ponzetta e niente. Quindi il teatro mi piace, mi ha cambiato la vita. Buongiorno, sono Imanu Cera, laureata in filosofia scienze umane e morali, attualmente studentessa in filosofia e scienze dell'educazione per gli adulti, con tanta voglia di fare ma paura di fare un passo, andare avanti, non so per quale motivo però spero di trovare qualcosa, di riuscire a riorganizzare un po' la mia vita, il mio futuro, non lo so. Buongiorno, sono Angela Abramato e mi sono laureata in pedagogia dell'infanzia e frequento l'ultimo anno della specialistica in filosofia scienze dell'educazione. Noi ci tenevamo poi ad avere anche all'apertura dei lavori, sto introducendo, l'assessore alla cultura, al turismo del comune di Lecce, l'avvocato Coclite. Ci tenevamo ovviamente perché il nostro settore è quello che direttamente poi si riferisce in città e fa riferimento al suo assessorato e insomma ci tenevamo ad avere un intervento anche a proposito di questo laboratorio. Volevo dire anche io buongiorno, sono Gigi Coclite, mi sono laureato in giurisprudenza durante la guerra, però no, a parte gli scherzi. Io mi scuso per il ritardo ma purtroppo questi orari sono terribili. Poi diciamo le conferenze coreie, normalmente gli incontri si caratterizzano dal ritardo con il quale comincia, no? Perché io vengo sempre puntuale e aspetto sempre un oro. No, il lavoro che inizia oggi io lo trovo molto interessante, se vogliamo rientra nelle pighe che l'amministrazione comunale ha aperto proprio sul teatro, cioè il riferimento al sociale, al socio culturale, no? Fare un calendario, una stagione teatrale non è così difficile, basta avere le risorse finanziarie, si chiamano le compagnie, diciamo che sono le tournee, si realizza e normalmente quello che esce sui giornali a Lecce è venuto, Pinco Pallino ha fatto una rappresentazione teatrale, ma il teatro è qualcos'altro. Io sono particolarmente colpito da una cosa perché da quando sono arrivato ho sentito la presentazione e colgo con piacere che i vostri percorsi di studio sono proprio quelli più complicati, quelli che non garantiscono comunque dove è difficile assicurare uno sbocco nel futuro, no? Normalmente tutti fanno giurisprudenza, uno è commercio, ingegneria. Io ho due figli, nessuno è due, che grazie a Dio fa né giurisprudenza, ingegneria, uno fa scienze politiche e l'altra fa lettere, quindi sono contento perché c'è qualche altro pazzo come me che ha secondato in passato le vostre scelte di studi, che sono molto, molto vicine agli aspetti culturali, filosofici, a qualcosa di diverso nella vita, non alla monetizzazione del futuro, io dico questo. È un'esperienza importante perché, come dicevo prima, si fa il teatro fuori dal teatro. Se vogliamo, oggi le cose che funzionano di più sono quelle che sono nate nelle fabbriche abbandonate, nelle case abbandonate, nelle masserie, nelle periferie dei grandi centri, no? Mutuando un po' quello che accadeva in Germania già qualche anno fa, in Inghilterra, ma anche in alcuni paesi dell'Europa Mediterranea. In questi tre giorni che si fa ecoreia, che io considero uno dei tempi della cultura del territorio, non solo del teatro, ben venga, se serve anche a stimolare l'attenzione di tanti altri ragazzi della vostra generazione che vengono qui a partecipare, ad ascoltare, a vedere, perché è sempre il seme che si pianta, prima o poi da tanti semi buttati, un albero, io penso, o una piantina, prima o poi crescerà. Dicevo, il discorso dell'evento legato agli aspetti socioculturali o comunque al teatro, fatto fuori dal teatro, si coniuga anche benissimo con quello che è il nostro progetto su Lecce Capitale e la pedra cultura. Noi, contrariamente a tutte le altre città candidate, abbiamo presentato un libro legato molto ai fenomeni sociali, a quelli dell'immigrazione, dell'integrazione, della reimmigrazione di tutte quelle persone che anni fa erano i nostri emigranti che andavano al nord o in Svizzera o in Germania a lavorare e che oggi stanno tornando nelle terre d'origine per cercare di impiantare qui un'attività, di trovare lavoro qui per i fenomeni purtroppo di crisi che stanno caratterizzando l'intera Europa. Quindi proprio questo aspetto socioculturale ha caratterizzato il nostro book, dicono gli esperti, ed è stata una delle armi vincenti. Io mi auguro che questo laboratorio possa essere veramente foriero di altre idee che coinvolgano l'amministrazione in qualche maniera, non solo attraverso i Coreia, grazie anche ai Coreia ovviamente, ma anche utilizzando i nostri spazi che purtroppo d'inverno sono limitatissimi, abbiamo solo il Paesiello e io quando sono arrivato avevamo forse 30-40 con media invernacolo, abbiamo ridotte a 6-7, ma non è facile perché c'è la convinzione che bisogna fare per forza tutto quello che viene chiesto dall'amministrazione per evitare di perdere il voto, di avere un conflitto con qualche piccola compagnia. Però purtroppo il Paesiello è l'unico contenitore al chiuso che abbiamo e abbiamo spesso grandissime difficoltà ad accontentare le iniziative, se non collocandole in periodi difficili, tipo giugno quando fa un caldo micidiale, proprio per questo esubero di richieste. Io su questo sto lavorando, lo dicevo pure a loro l'altro giorno, prevederò un canone di locazione sperando che questo possa far diminuire le richieste assurde e consentirci di poter utilizzare anche per le iniziative nostre l'unico contenitore che poi è piccolino, 300 posti, per poter aprire alle compagnie giovani, alle cooperative di giovani studenti, alle improvvisazioni diatrali, a qualcosa di differente che da qualche anno abbiamo già iniziato ad attivare. Io quindi non posso che augurarvi veramente un buon lavoro, mi auguro che i risultati che trarrete alla fine di questi tre giorni siano quelli che vi aspettate, anzi migliori di quelli che vi aspettate, se potrò verrò a trovarvi in questi giorni. Ho parlato pure troppo, non mi dovevo solo presentare. Grazie, veramente buon lavoro. Io vi lascio perché devo andare ad un'altra conferenza stampa. Grazie, allora ringraziamo l'assessore, condividiamo ovviamente quello che è stato detto e ci auguriamo appunto che insieme poi si possa arrivare anche a proporre qualcosa magari di concreto poi direttamente all'assessore. Allora iniziamo con i lavori, quindi passo la parola ai due esperti, prego. Allora, partiamo subito dividendoci in gruppi. Dobbiamo fare due gruppi, quindi facciamo da uno a cinque perché siamo dieci, quindi un primo gruppo e un secondo gruppo. lavoreremo su una serie di step che hanno sempre come domanda il teatro come dispositivo per intervenire le comunità. Cosa può fare e come lo può fare? Che step dovrebbe eseguire? Ricordiamoci che alla base, io non voglio dilungarmi troppo su aspetti teorici perché sennò perdiamo tempo rispetto a quelli un po' più pratici. Però alla base c'è la visione del teatro non solamente come momento ludico creativo ma come momento di co-costruzione di conoscenza e competenza. Questa è la base. Cioè l'idea che all'interno della scuola il teatro entra e entra come piccolo laboratorio pomeridiano che viene fatto per i bambini, quindi quell'idea ha una rappresentazione dietro che rimanda al teatro come momento di svago, un momento così da mettere lì. Quando invece il teatro diventa una metodologia propria dell'educatore, dell'insegnante che l'esercita costantemente in maniera pensata, progettata all'interno dell'aula, lì la rappresentazione cambia e si ha un teatro che diventa effettivamente efficace. E poi c'è una questione interessante su questo. Non è un caso che parliamo di questi temi qui nel Salento. Se pensate veniamo fuori un po' da una fregatura, diciamo, degli ultimi 50 anni che si è basata su due cose fondamentali. La prima che chi si occupa di apprendimenti, di educazione, di formazione debba solamente farlo a scuola. Questo succede perché dagli anni 50, dopo tutte le esperienze maturate in Sud America, a Freire, Boal, ci fu un fermento fortissimo su come effettivamente il teatro, vedete l'Uruguay oggi, come il teatro effettivamente potesse contribuire a creare quello che dicevamo prima, empowerment, cambiamento, emancipazione, questa era la parolina magica. Quando tutto questo movimento arrivò in Europa, fine degli anni 70, inizi degli anni 80, si incontrarono prima a Napoli, poi a Barcellona, tutti gli esponenti di quella che era considerata allora l'educazione degli adulti, la ricercazione partecipativa, insomma ci fu un grande fermento. Per una serie di decisioni anche politiche si disse, guardate, quando ci occupiamo di questi temi legati all'apprendimento e all'emancipazione, quello che a noi interessa è che si debba fare solo a scuola, quindi toglietevi dalla testa di farlo in qualsiasi altro contesto, sia est le comunità, sia est le organizzazioni, poi quando verranno gli esperti di impro, ci racconteranno come si può lavorare tantissimo per il benessere organizzativo all'interno delle organizzazioni. Quindi negli Stati Uniti iniziarono a lavorare sulle organizzazioni, in Spagna, i WUF nel nord dell'Inghilterra, in Sud America continuarono a lavorare con le comunità e a noi rimase il pezzettino della scuola. Questa fu la prima fregatura per cui ci sembra anche strano da un punto di vista poi culturale parlare delle cose di cui parliamo. La seconda cosa drammatica fu quella di dire quando facciamo apprendimenti, scuola, eccetera, eccetera, facciamola un po' all'arancia meccanica, nel senso facciamo in modo che le persone arrivino solo ad un livello di conoscenze, cioè una serie di post-it di cose che le verranno incollate, finito l'esame, finito quello che deve essere la performance scolastica, uno dimentica tutto. Il passaggio dal sapere al saper fare è qualcosa che molto spesso viene quasi sempre abbandonato, non lo si fa quasi mai. So una cosa, andiamo a vedere se questa cosa la so fare. L'altra scelta politica drammatica fu quella di dire invece di fermarci al terzo step che è il saper agire, fermiamoci solo al sapere. Cos'è il saper agire? Tutte le cose che io so, tutte le cose che io so fare, le competenze, i miei vissuti, le specificità di ciascuno hanno senso solo se riescono a darci la possibilità di inserirci nel contesto in cui siamo, in cui lavoriamo. Questo saper agire è quello che poi, quella definizione di competenza che tutti diciamo, più diffusa, è davvero la possibilità emancipatrice per la persona. Se voi vedete ci sono un sacco di persone laureate, diplomate, agricoltura, sappiamo cosa succede, milioni di periti o di persone, però non sanno come trasformare questo in occasione di lavoro, perché non hanno mai fatto un percorso basato sul saper agire, cioè su come tutto quello che tu sai puoi mettertelo in gioco. E questa fu la seconda scelta drammatica che ci porta poi alla situazione in cui siamo. E quindi un po' questi due sono i binari che dovremo affrontare, diciamo, binari teorici che ci guideranno in questa parte della giornata e in parte anche nel pomeriggio con l'esperienza che stiamo facendo a Carpignano sulla Summer School di arti performative. Perfetto. Allora, il primo step riguarda sempre, in qualsiasi momento noi andiamo a progettare nel sociale, si chiama valutazione ex-ante. Che sarà mai sta cosa? Cos'è questa valutazione ex-ante? Allora, prima di poterci muovere in un contesto, che può essere di stampo formale, quindi scolastico, o di stampo informale, non formale, quindi al di fuori dei contesti educativi classici, quindi le comunità e il sociale, bisogna fare una fotografia dei bisogni di quella comunità, di quel contesto in cui voglio andare a intervenire. Quindi io ho un problema, voglio realizzare un progetto che ha come al suo interno il dispositivo del teatro, lo voglio realizzare in un determinato contesto, il primo step che devo compiere è la valutazione ex-ante. Cioè, devo capire le persone che ho davanti, chi sono, soprattutto di cosa sono portatori in termini di bisogni, in termini di competenze, di aspettative e di motivazioni. È l'unica garanzia per avere un patto formativo efficace, cioè che sia un'attività che abbia un senso per le persone che ci stanno, non per le persone che parlano. E questo, l'anno scorso abbiamo fatto per esempio lezioni al TFA a matematica e fisica, a 300 docenti di matematica e fisica, che dicevano, non si può spiegare la matematica e la fisica in termini creativi, per esempio, lo potete fare solo con le discipline come le vostre, questa cosa non. E lì fu una cosa, mi venne in mente, meno male, primo Levi, la tavola degli elementi in cui racconta la storia degli elementi, inventando delle storielle, il cadmio, il signor cadmio un giorno in controllo, eccetera, eccetera. Nacque l'H2SO4, la fisica dei supereroi in cui si spiegano la forza di gravità, FM per A, se c'è Superman che vola vuol dire, cioè entrare nel registro, in questo caso era dei bambini, dei ragazzi di scuola, cioè entrare nel loro vissuto, devi trovare il canale giusto per entrare. Allora, fare la valutazione extante significa io non vengo da casa, le mie slide le porto qui, le potrei portare a Cuba, Roma, dovunque sia. Ovviamente non funziona questo. Per poter realizzare questa relazione bisogna partire assolutamente da quello che voi siete e da quello che voi fate. Quindi abbiamo preparato uno schermino molto veloce in cui ci dovete compilare una serie di informazioni che poi ragioneremo insieme anche alla fine della giornata per vedere un po' cosa è cambiato, cosa è successo e tra due o tre mesi vi chiederemo qualcosa anche su quello che avete messo forse in pratica della giornata che abbiamo fatto insieme. Ok, quindi servono dei fogli. Dei fogli. Quanti computer ci sono intanto? Quanti voi hanno portato i computer? Due? Perfetto. Quattro. Perfetto. Tanto saranno gruppi? Allora, in un gruppo, il tuo nome? Antonio. Antonio, che ha il computer, quindi insieme a voi, tra i cinque più lui sei, un gruppo da sei, un gruppo da cinque, di qua c'è un altro che ha il computer, il tuo nome? Antonio. Antonio ha anche lui il computer. Se può servire c'è anche un computer acceso già di là. Allora, creiamo questi due gruppi, proprio fisicamente, creiamoli. Strutturiamo i due gruppi. Ci prendiamo pochissimo tempo per questa attività. Scusami. Vai, vai, tranquillo. Come vedete stiamo saltando tutta la parte teorica che era anche simpatica da poter fare, però visto l'enorme ritardo in cui stiamo dobbiamo per forza andare... Quindi molte cose, se avete domande, le ponete poi nel durante rispetto a... Vede pure bene che si miscono, perché loro sono tutti del corso. Ah, è vero, è vero. Voi siete già un gruppo consolidato, no? Sì, perché sono tutti studenti... Allora, change la sedia. Come? Dai, dai, siamo nello stesso corso. Sarebbe bene anche conoscere persone che non... Vai, piccoli qua. Lei di là. Ok, dai. Apprendimento non è mai un fatto individuale. Ecco, questo è un altro aspetto interessante su cui si muove il dispositivo del teatro. C'è uno stereotipo fortissimo che è legato al concetto di apprendimento. Cioè, nel senso, se noi andiamo a lavorare all'interno di una comunità, di un qualsiasi contesto, andiamo per creare conoscenza, per creare competenza. E quindi alla base, la parolina magica che sta alla base di informazione, conoscenza e competenza, è la parola apprendimento. Prendere con sé. Molto spesso questo apprendimento, questa parola, è legata a una visione cognitiva, razionale. Cioè, qua. Quasi l'apprendimento a sede è qua. Questo è uno stereotipo incredibile. Ci hanno abituati così. Ci hanno abituato così. Invece, l'apprendimento, la persona apprende con sé soltanto se è coinvolta emotivamente, perché innalza la motivazione. Quindi l'apprendimento è emotività. E per questo motivo il teatro, come altre arti performative, che possono essere la scultura, la fotografia, la pittura, la musica, la danza e più di cento, aiutano a creare apprendimento. Ci sono il dispositivo che l'uomo ha inventato per giungere prima possibile all'emotività delle persone. Esatto. Ed è quello che molto spesso viene messo da parte. È un paradosso. Cioè, io all'interno della classe, molto spesso, troviamo docenti, educatori che dicono ma come possiamo motivare gli studenti? Sono demotivati. Vengono, fanno casino. La lamentela, bla bla bla, bla bla, bla bla, perché sono così, le nuove generazioni non sono più quelle del passato, non ci sono più le mezze stagioni, bla bla bla. È vero. Questi aspetti. Questi aspetti sorgono perché la relazione che tu crei in un contesto, che può essere la classe o che può essere la comunità, non aggancia le emotività delle persone. E quindi non c'è un riflesso motivazionale per cui la persona ti debba seguire. Perché ti deve seguire? Non so fare, non so bravo disegnare, ma questo è un iceberg. Molto spesso quando, immaginiamo, la parte sopra di quest'iceberg, che noi ci mettiamo le conoscenze, le abilità, vabbè, io disegno sempre piccolo e al lato. Due terzi, un terzo. Conoscenze, le abilità, le nozioni che abbiamo. Ci sono una serie di piccole, piccole cose che si trovano in cima a quest'iceberg che è la parte evidentemente cognitiva. Cognitiva ed emersa, ed è quella su cui molto spesso quando andiamo a scuola o in qualsiasi intervento formativo, vanno a smuovere. Sapendo che invece qui sotto c'è sta l'emotività, le aspettative che le persone hanno rispetto all'attività che fanno. La motivazione, il senso di auto-efficacia. Il senso di auto-efficacia. E tutto sommerso. I tratti di personalità. I mal di pancia. I tratti di personalità. Cioè questa parte qui è, Freud la chiamava, il grogiolo degli eccitamenti ribollenti. C'è tutto ciò che guida i nostri comportamenti. Sta qua. Sta nei due terzi. Facciamo vedere che questa qui è la persona. Un terzo è la parte cognitiva razionale. Quindi il pensiero raziocinante. Il pensiero consapevole. Quello che struttura una serie di pensieri sequenziali, lineari, che ti permettono di agire. L'esplicazione che ci diamo in maniera consapevole. Stando qua. E anche la conformità. La conformità, la stereotipia. Sta tutte qui. La parte sommersa, che invece non consideriamo mai, di questo iceberg che è la persona, porta con sé l'emotività, la motivazione al fare, il senso di auto-efficacia, i tratti di personalità che io mi immagino di avere. Tutto ciò, il rischio, l'incertezza, ha sede qui. I nostri comportamenti e anche le nostre capacità di costruire conoscenze e competenze hanno sede qua, nell'emotività, che poi struttura un pensiero lineare, sequenziale, che anche serve ed è funzionale alla vita di ogni giorno. Ma se le azioni di apprendimento non entrano da qui per poi arrivare qui, falliscono. Invece molto spesso i classici sistemi formativi agganciano questo nella speranza che ci siano ricadute anche sul piano dell'emotività, del cambiamento della persona. Ma nella speranza che è? A volte avviene, a volte non avviene. Ti ricordi? Due anni fa incontrammo un chitarrista, uno di quelli conosciuti, si chiama Maurizio Colonna, è uno chitarrista classico, super bravo, pare che sia uno di quelli più bravi al mondo, ha suonato all'ONU, insomma. La cosa divertente è che diceva lui, diceva, vada, come è che tutti questi bagnoni che escono dal conservatorio, quando finiscono saranno velocissimi a fare le scale, avranno una preparazione teorica da un terzo. fantastica, però poi in realtà quando escono non sanno che fare, non sanno che lavorare, allora li trovi al McDonald's, li trovi al Hotel Presidente a fare le colazioni, nel senso sono persone che non sanno mettere in pratica quello che hanno fatto. E lui diceva, come potremmo invertire al conservatorio tutto questo meccanismo? Vedi, ma nelle tue classi li hai mai fatti suonare per strada, al Circo Massimo, li hai portati mai in un pub, li hai fatti suonare ad un matrimonio, li hai organizzato? No, da noi queste cose non si fanno perché si lavora solo su quella parte emersa, no? E quindi anche lì ci sono persone che possono sapere una marea di cose nella loro testa, ma poi di fatto non sanno come giocarsele. E questo è il grande paradosso che si può solo superare, come dicevamo prima, tentando di capire cosa c'è in quella parte sommersa, lavorando su quello che è definito il problem-based learning, cioè un apprendimento basato su problemi reali, non a questione israelo-palestinese, che ci serve a noi nel Salento? Come possiamo, e soprattutto con il learning, by doing, conosciamo tutto, fare le cose in pratica. Velocemente, ci serve sapere, in una scheda, età, faccio più grande così poi le vedete, ma proprio 7-8 minuti, perché con questo riusciamo poi a definire un po' le attività da fare insieme. Lo sta. è diviso in un pezzo anagrafico, veloce, è un pezzo legato alle aspettative e alle motivazioni. questo riguarda voi. Cioè, stiamo facendo una rotazione ex-anze, che dobbiamo fare all'interno di un contesto, adesso lo facciamo con voi. Faccio per esempio, qualcuno di voi ha partecipato alla riqualificazione che stanno facendo per esempio a Via Leuca, avete sentito, sapete, non lo so, tutte le esperienze, almeno anche quello che ho avuto io ai contratti di quartiere a Roma, eccetera, eccetera, molto spesso arriva uno e dice, io ho il progetto nella mia testa, piuttosto che io so che facendo questo intervento di animazione tramite il teatro posso probabilmente incidere sulla comunità, ma si sono mai chiesti chi sono i soggetti della comunità, chi sono i gruppi, i comitati di quartiere, le persone, i ragazzi, i bambini, che possono partecipare attivamente all'interno di quell'attività e non essere solo terminali passivi di un evento o di uno scenario che ha il teatro solo come piccolo giochino per attivare? Cioè, può essere utilizzato il teatro in questo senso coinvolgendo tutti gli attori della comunità? Puoi inserirsi all'interno del gruppo. Come ti chiami? Renato, allora, qui, in questo gruppo qui, perché abbiamo fatto uno da sei, uno da cinque, ti integri in questo qui. Poi una domanda, secondo voi perché le facciamo scritte questa parte di attività? Perché serve scrivere? E non serve dircele a voce. Sicuramente si sigilla un attimo, non più, perché concretizzate, quello che puoi dire... Perché, perché? Ci siamo? Una confessione, una confessione, quando lo dici, quando parli, ti senti meglio, diventi più consapevole, e scrivi la cosa. Polani diceva, sappiamo molto più di quello, che diciamo. Cioè ci sono un sacco di cose nella pancia che non riusciamo a tirar fuori. Avere la possibilità di scrivere significa metterci un attimo in un momento riflessivo e finalmente avere il tempo per guardarci bene, per farci un po', per disegnarci, per vedere effettivamente quello che siamo, che magari molto velocemente nella prassi, o quando parliamo, poi si dà per scontato, non emerge. Ed è un momento di consapevolezza molto forte. La maggior parte delle esperienze che abbiamo fatto anche a Carpignano, quindi sul teatro di comunità, e anche il caso di studio che vi presenteremo, utilizzano tantissimo la narrazione, momenti di scrittura collettiva, di scrittura connettiva, cioè momenti in cui si ha la possibilità di far emergere queste storie, questi vissuti, e di incastrarli insieme. Da lì partendo, poi si mette in scena, ci sta la restituzione, eccetera, eccetera. Per Renato che si è giunto adesso, abbiamo creato dei gruppi di lavoro, abbiamo saltato tutta la parte teorica, e cerchiamo di far vivere ai partecipanti, quindi a voi, le varie fasi su come poter progettare un intervento col dispositivo teatro all'interno di una comunità. Quindi questa è la domanda madre che guida queste attività. La porta del sapere è chiusa dal di dentro, diceva Argiris. Quindi questa prima fase è quella della valutazione ex ante, abbiamo detto. Prima di qualsiasi momento di progettazione bisogna domandare al contesto chi è, cosa vuole, e cosa potrebbe volere, e quale aspettative ha rispetto a un possibile intervento. Fammoli scrivere dai. Quindi questa è la serie di domande da porre. Cioè se tu hai attività di rete, se hai delle realtà con le quali collabori più frequentemente, perché quando si faranno attività di progettazione si metterà in valore tutto il capitale sociale che una persona ha, quindi se io collaboro con quell'associazione, con quell'ente, con quella realtà, e posso tirarla dentro, all'interno del progetto che sto realizzando, è sicuramente un valore aggiunto. di filmazione molto velocemente, perché qui è come si è lavorato perché sono per farlo vedere dopo va bene va bene va bene avete copiato? stanno andando stiamo rispondendo un nome ah state rispondendo voi stessi come cosa ok il secondo step una volta che avete risposto come voi stessi vi riunite in gruppo immaginate un contesto in cui state andando a fare valutazione ex ante e quindi rispondete a queste domande come se fosse un contesto fuori cioè i dati che vi giungono da fuori e li organizzate rispetto a questo framework vabbè ora compilate questo dai diamo un pezzo alla volta ecco l'elenco che vi dice quelle che abbiamo visto ieri che abbiamo segnato allora ci siamo velocemente vi raccontiamo un caso di studio dicevamo di un progetto che abbiamo fatto abbiamo attivato due anni fa a Manfredonia nel Gargano nato da una committenza di un'associazione che si chiama Officine Mazzione Officine Mazzione fa tendenzialmente progetti legati al mockumentary e al documentario e un po' quello che avevano un po' raccontato in questi documentari era la situazione non solo del sud in generale non solo di Manfredonia ma un po' del sud in generale in realtà c'era stato un ritorno di alcune fasce di criminalità nella parte del centro storico di Manfredonia dedicate alla danza dei bastoni questa era una prima informazione che loro avevano raccolto avevano messo uno speech box all'ingresso dell'associazione c'è una cassetta della posta e man mano arrivavano le segnalazioni su cosa si sarebbe potuto sviluppare attraverso questo progetto Officine Mazzione c'è stata la quindi sono arrivata una serie di segnalazioni da parte dei ragazzi che in molti luoghi della città erano abbandonati o comunque distrutti, inutilizzati era arrivata la segnalazione che stavano ritornando queste attività criminali e ci avevano qualcosa a che fare con la danza dei bastoni ma ancora non si sapeva bene cosa e erano arrivate delle segnalazioni dell'università della terza età che si trova a Manfredonia dicendo che gli anziani vorrebbero partecipare a questo progetto ma non si sapeva ancora come alcuni docenti in alcuni pon avevano chiamato questi ragazzi dell'Officine Mazzione per dire sì, vabbè, fate cinema ma fate cinema alla Osbetec nel senso prendete come sfondo il Salento perché è figo e poi alla fine vi fate i fatti vostri oppure andate a fare campi di video ricerca stile Apulia Film Commission tu arrivi, prendi, fai le tue cose e te ne vai e non sai cosa rimane effettivamente alla comunità che volete fare con il cinema e quindi raccoltero tutte queste segnalazioni presentarono questo progetto a Principi Attivi due anni fa e lo passarono e iniziarono iniziarono questa avventura poi vi darò anche il sito così potrete vedere un po' tutti i materiali anche video che sono stati caricati la fase finale era bisognava produrre un mediometraggio ispirato un po' ai racconti appartenenti ai luoghi all'immaginario anche culturale di Manfredonia e da quelli dare la possibilità di poterli trasformare attraverso diversi strumenti tecnologici in diverse storie la cosa divertente fu vi la tralascio tutta questa questa parte abbastanza pallosa iniziarono con andare in giro nelle scuole e coinvolsero gli studenti ad andare nell'università della terza età a far raccontare un po' agli anziani le storie su lupo Mannaro il carcaiulo che lì lo chiamano in un altro modo stranissimo iniziarono un po' a vedere quali erano i topic di Manfredonia prima di questo aspetto qui nel momento in cui hanno messo la cassetta per raccogliere l'idea come si chiama quel momento valutazione ex-ante quello fa parte è un tassello della valutazione ex-ante cioè non vi propongo io l'idea a voi ma siete voi che mi date un'idea a me questa è garanzia di attivazione della comunità perché un conto se io dall'alto faccio piovere delle idee o dei progetti e quindi voi o vi piace o non vi piace vi tocca farlo un conto invece si nasce da un tessuto che è già motivato perché è lo stesso che vi presenta un'idea esatto quindi con tutte queste informazioni andarono nelle scuole e iniziarono a coinvolgere i ragazzi li portarono all'università della terza età e iniziarono a farsi raccontare un po' questi topic di Manfredonia e man mano uscirono delle interviste bellissime c'è un signore che racconta la storia dello Bumbo Mannaro che è appunto un personaggio che gira a Manfredonia un pescatore che si aggirava nel centro storico era una persona che aveva il viso un po' sfigurato che un po' ritorna sempre insomma a suo motivo e che faceva spaventare le persone faceva spaventare le persone faceva prendere malissimo in realtà lui chiedeva aiuto e quando si avvicinava a qualcuno e dice ciao sono lo Bumbo Mannaro le persone scappavano un'altra storia legata allo Bucchiadur che era una persona che va in giro nel quartiere di Manfredonia a svegliare i pescatori per dire oggi si può pescare il vento è buono uscite di casa e sto Bucchiadur ha svegliato un po' tutte le persone del centro storico da generazioni perché alle 4 e mezzo del mattino alle 4 e 3 e mezza questo passava oggi il vento tramontano si può andare a pescare e quindi i bambini per esempio di quell'età di allora ricordavano il Bucchiadur come una sfiga come quando chi abita vicino al campanile della chiesa che sente ogni quarto d'ora ciondolare il campanile quello del Carcaiulo la sapete sappiamo tutti quanti la storia del Carcaiulo e quindi no wow chi racconta chi è il Carcaiulo il loro è il colletto che si aggira nelle campagne in genere a divertirsi a fare le frecce alle cose dei cavalli alle primiere oppure che si dice si pianzi sulla pancia di notte e non si faccia dormire tanto che non vuoi anche provare a gridare ma non ce la fai perché c'è questo colletto che trenne sulla pancia e allora c'è con tutti però lo scopo non era semplicemente raccogliere la storia quindi fare questa memoria così un po' nostalgica da museo etnografico pensi quando sono arrivati alla storia della danza dei bastoni hanno capito che tutto voi sapete la danza dei bastoni specie a Manfredoni è nata come una forma di educazione popolare cioè i ricchi davano la possibilità tramite la danza dei bastoni alle persone povere di poter imparare a leggere e scrivere quindi in un certo senso aveva un po' anche una chiave emancipatrice col passare degli anni poi successe anche da noi questi riti sono scomparsi perché ci sono diciamo ci sono forme ora di negoziazione del territorio che passano fondamentalmente per sfere criminali e quindi questi modi queste modalità per poter decidere per esempio se il mio greggio deve passare da qua o da là vengono risolti in altro modo si arrivò alla storia della danza dei bastoni e si scoprì che c'era un posto clandestino sul corso principale di Manfredone dove facevano ancora questa danza dei bastoni allora lì i ragazzi andarono a intervistare questo boss che stava là dentro e dice sì noi ci crediamo la danza dei bastoni è una cosa storica che ci portiamo serve per combattere il sistema insomma gli raccontarono una serie di storie registrarono anche questa università della terza età andarono i bambini organizzarono insieme ai facilitatori di officine mazione delle giornate furono in realtà 14 giornate più o meno una al mese in cui facevano raccontare tipo come abbiamo fatto in cerchio fanno raccontare fanno scrivere queste storie che diventò poi il canovaccio sul quale la bottega degli apocrifi che è un teatro che si trova a Manfredonia rielaborò in chiave performativa diciamo una specie di sceneggiatura collettiva raccogliendo tutte le storie che erano state fatte emergere e quindi partirono un po' dalle tradizioni popolari perché dissero ok con questo dovremmo creare il documentario o meglio ancora il mockumentary i ragazzi furono coinvolti a utilizzare registri stilistici differenti a me piace per esempio il grottesco a me piace il fumetto a me piace l'horror e tutte queste storie di Manfredonia iniziarono a raccontarle in chiave differente quindi sono usciti dei prodotti audiovisuali davvero davvero interessanti e sono tutti i pezzettini che andarono poi a montare il mockumentary la cosa più interessante tornando poi alla danza dei bastoni perché con l'arte performativa nel senso perché raccontare poi raccontare per immagini è diventato un momento educativo perché quella palestra quel posto diciamo informale alla fine del progetto si è trasformato in una palestra popolare di danza dei bastoni cioè si inizia da dire bene possiamo fare in modo che un po' di queste economie che voi fate transitare in maniera tra virgolette più o meno illegale o in forma clanica possono emergere in qualche modo in qualche forma hanno fatto la domanda al comune sono stati coinvolti c'erano queste persone sul palco che raccontavano cioè quel boss nascosto là dentro raccontava cosa era la danza dei bastoni in maniera molto fiera c'erano un sacco di ragazzini vennero anche quelli di Libra e disse che cosa strana in genere in genere noi andiamo un po' a stigmatizzare quelle che sono le situazioni negative abbiamo forse la possibilità di farle emergere come occasioni invece di empowerment della comunità alla fine dei due anni di progetto se voi andate ora a Manfredonia c'è questa palestra in cui si insegna ai ragazzi la danza del bastone e in cui quei valori che erano visti prima in chiave meno sono diventati diciamo in chiave positiva e fu diciamo una delle cose più interessanti che al comune alla regione insomma piacque che diciamo si riuscì a partire da una criticità del territorio a trasformarla in un'occasione in un'occasione formativa attraverso il look invece che il laboratorio urbano che si trova a Manfredonia furono organizzati sempre per questi ragazzi dei corsi legati a come si potevano utilizzare un po' i medium classici per per realizzare questi prodotti e in sintesi insomma quello che poi loro presentarono alla fine perché loro avevano un canovaccio di idea di progetto però il canovaccio di idea di progetto lo svilupparono cioè lo mostrarono alla fine del percorso perché non si sa mai quali contenuti quali pezzi di attività devono essere fatti di volta in volta quindi ci fu questa prima fase di coinvolgimento dei vari partner si iniziò il progetto con quattro partner gruppi informali che mettevano nella cassetta della posta alla fine diventarono 13-14 partner un altro intervento interessante fu che andando nel centro storico di Manfredonia si accorsero che i storici maestri d'ascia i costruttori di barche ovviamente ora non lavorano più se voi andate a Porto di Sare piuttosto che se andate a Manfredonia o chissà dove non lavorano più perché con l'avvento della vetroresina poi pensate all'agricoltura al manifatturiero eccetera eccetera diciamo la dominante è sempre quella avevano perso il lavoro non erano stati in grado di riprofessionalizzarsi rispetto alle nuove modalità di fare barche quindi erano senza lavoro raccoltero anche lì le storie di questi maestri d'ascia raccoglendo queste storie si scoprì tutto il saper fare i processi che stanno intorno alla lavorazione il prodotto in sé per sé e da lì in poi alcuni ragazzi che avevano finito la scuola il tecnico e il nautico iniziarono a collaborare con questi anziani dei maestri d'ascia e tirarono fuori una cooperativa alla fine del progetto che in realtà dice cosa c'entrava con le arti performative hanno utilizzato le arti performative per far emergere tutta quella parte bassa diciamo dell'iceberg tutta quella biografia di esperienze e in questa cooperativa ora che fanno costruiscono piccole imbarcazioni da tiporto per turisti e le affittano i turisti oppure fanno i workshop durante l'estate prima dell'estate di tre settimane in cui tu vai costruisci la tua piccola barca e poi o te la porti o te l'affitti o la usi per le vacanze per andartene in giro perché sapete la costa di Manfredonia è tutta alta scogliera o hai la barca a vela figa oppure vai col pedalò o non ci vai a vederla e quindi in realtà anche in quel caso fu un'altra premialità che poi la regione diede al progetto è quello di essere partiti dall'emersione di queste storie dalla possibilità di poterle raccontare in chiave scritta di poterle drammatizzare perché poi c'erano una serie di spettacoli su tutte queste ispezioni di attività e alla fine di trasformarsi quindi non solo teatro per il teatro oppure fino a se stesso bensì come occasione effettivamente di promozione di empowerment questa cooperativa di Maestri Dascia funziona ancora e c'è una classe intera del Nautico che è finito il quinto anno è entrato in questa cooperativa e lavora insieme agli anziani quindi questo è un esempio veloce che vi abbiamo raccontato come le arti performative possono creare sviluppo anche economico quindi qui dove sta il teatro o le arti performative in genere la musica la danza e via dicendo sta nel momento di attivazione della comunità per far emergere il sommerso quindi è emerso la danza dei bastoni è emerso il Maestri Dascia tutta una serie di quid su cui poter lavorare e questo l'ha consentito è stato consentito grazie alla movimentazione utilizzando dispositivi performativi che possono essere il teatro la musica o quant'altro in questo caso anche il fumetto c'è stato veramente tantissimo sì furono tutti questi workshop qui workshop partecipativi in realtà quello nelle scuole quello degli anziani quello fatto per la per la danza dei bastoni quello fatto per i Maestri Dascia si attivarono in quell'anno 6-7 workshop permanenti esclusivamente di raccolta di storie e poi da lì appunto queste storie rilaborate attraverso dei laboratori di scrittura connettiva quindi la bottega degli apocrifi era quella che conduceva un po' tutte le attività di drammatizzazione nelle diverse sezioni del progetto e aiutò un po' a costruire questo canovaccio che fu restituito ovviamente in forma plenaria cioè la restituzione è una cosa un aspetto fondamentale quasi mai ci sono attività di restituzione quando si fa un lavoro con la comunità io ricordo ai tempi dei Veltroni quando lavoravo i contratti di quartiere venivano facevano come qui a valutazione ex ante ti chiedevano come vuoi il quartiere cosa vorresti poi lì la partecipazione si fermava la sfera consultiva ok poi alla fine nel senso delibero io faccio come voglio non arrivava mai la fase deliberativa se ne andavano tornavano facevano il progettivo vi piace il progetto che abbiamo fatto questo centro multipoli funzionale che metteremo cioè senza ovviamente lasciando da parte tutte quelle che erano le informazioni emerse in chiave di valutazione ex ante quindi questa restituzione è un momento anche di consapevolezza per capire qual è stato il contributo delle persone all'interno di tutto il processo che hanno realizzato la sceneggiatura fu precedente poi al fatto che appunto gli studenti iniziarono a organizzare secondo diversi stili e a raccontare queste storie c'è un fumetto bellissimo invece sull'Boom Mannaro che ce l'hanno ora hanno finito le copie le devono le devono rimandare ma online c'è una parte cartacea quindi potete vedere per esempio questi fumetti fatti così oppure l'horror della storia ci sono dei filmatini horror del Luca Arcaiulo che si aggira per le strade di Manfredonia e tutto questo raccontato sempre con pezzi poi molto misti nel senso c'è l'anziano che racconta un pezzo e poi compare il fumetto per esempio che corre dentro Manfredonia sono fatti molto carini da ragazzi che hanno 15 anni 16 anni hanno raccolto qualcosa come 150 alla fine oggetti multimediali coinvolgendo evidentemente le famiglie gli anziani c'è stato un movimento enorme e poi tutti questi pezzi invece sono andati sono confluiti nella realizzazione di questa docufiction che ora in fase diciamo finale dovrebbe essere lanciata prima di Natale a Manfredonia lo pubblicheranno online gratuita quindi vi manderemo il link dove potete vedere un'ora e quaranta di tutto questo processo insieme a Toto noi seguimmo tutto il percorso come facilitatori e ricordo che il momento fondamentale di tutto il percorso fu proprio all'inizio nel momento di focus group grandi di valutazione ex ante lì si creò il bivio tra processo motivazionale delle persone cioè la motivazione che le persone erano pronte a metterci oppure sarebbe stato un progetto in cui qualcosa dovevi fare la prendevi la facevi fare e si chiudeva lì il ciclo questo è un ciclo che continua a produrre prodotti e processi all'interno della comunità perché c'è ancora viva la motivazione delle persone quindi intercettare la motivazione delle persone è fondamentale per il successo per il proseguo dell'attività e per il successo dell'attività senza di quello si rischia di fare i classici progetti che dici vabbè abbiamo un piccolo finanziamento facciamolo chiudiamo e portiamoci a casa quello che c'è oppure se non hai un finanziamento di farlo fallire perché tu puoi far partire un'attività anche non avendo un finanziamento economico ma avendo una rete un networking una rete che ti sostiene e che quindi lo puoi comunque portare avanti però il tassello il primo grande bivio che fa fallire o meno i progetti su sociale è la motivazione delle persone che ci stanno dentro il problema è quando bisogna crearla la motivazione quando proprio non c'è ma la crei nel momento in cui la intercetti è questo l'aspetto la scavi un po' che si crea tra il crearla perché la intercetto o che manca proprio nel momento in cui si sta deviando verso la parte dove non c'è proprio lì si crea la vera difficoltà ma lì è una postura mentale se io vado che dentro di me ho già l'idea che voglio realizzare a priori e quindi faccio finta di domandarvi qual è la cosa e poi in qualche modo forzo la mano cerco di direzionare comunque il tutto rispetto al progetto che tengo in testa allora in quel momento può darsi pure che le persone mi dicono che sì ma da lì a due settimane si sono perse quindi e sta proprio nell'avere una postura sgombra da questioni di pregiudiziali cioè di giudizi anticipatori di progetti o altre idee che ho in testa per accogliere effettivamente quello che emerge lì in quel momento qui e ora sono pronto a accogliere questo su quello posso progettare e quindi ho una forma di garanzia che le persone che ci stanno a quel tavolo proseguono perché hanno una motivazione un interesse nel volerlo fare io dico questo perché lavorando dove lavoro lavorando in questa comunità dove io sono molto pratica quindi faccio rimando ad esperimenti pratici lavoro con dei ragazzi che davvero non hanno nessun tipo né di fantasia né di volontà né di non perché siano stupidi ma perché proprio a loro manca la base anche del creare allora se non si danno degli input con ciò non voglio dire che è giusto che l'educatore o comunque la guida dia delle guide dei riferimenti perché così come dicevate è falsata già da principio però come si può creare una motivazione quando dall'altra parte manca proprio ma perché non si sa neanche cosa realizzare non è facile ho fatto l'esempio del libro la fisica dei supereroi la matematica che è la cosa più ostica per un bambino che sta dietro a mandare o un ragazzino che sta dietro a mandare sms all'amichetta dell'altra classe però se racconti la matematica spiegando come superman vola probabilmente lo intercetti la cosa più banale no? C'è il problema sta nel trovare meccanismi per poterci intercettare quella c'è forse è minima ma c'è sì per esserci c'è però cioè ti dico questi qui anche praticamente della palestra sono stati proprio i figli di questo di questo cristiano che aveva sta cosa un po' l'osca che sono quelli che ora sono diventati titolari della palestra ed erano assolutamente persone che non avevano proprio idea di entrare nella vita della comunità in più perché essendo stigmatizzati in un certo modo avevano molta più difficoltà di negoziare l'accesso nella comunità con gli altri eccetera eccetera erano persone proprio che non si pensava assolutamente di coinvolgere però intercettando un canale anche al confine tra la legalità e l'illegalità in questi primi nei primi tavoli di concertazione la prima cosa che emerge non è la motivazione è la resistenza infatti erano tutti fuori così ti ricordi questo è un aspetto importante che è fondamentale in cui anche il primo bivio in cui si trova cioè la resistenza di chi ti ascolta rispetto a un percorso da fare che non è neanche definito ma che si definisce insieme a voi e le resistenze che si chiamano al cambiamento resistenza al fare in generale quindi ci sarà sempre la persona che ti dirà ma no non serve a niente quindi che manifesta la sua demotivazione poi parli del lupo mannaro che si gira nel centro storico è il primo che ci ricordiamo a dire ah è interessante io mio nonno che ricordo che era amico suo intimo e ci può raccontare qualche cosa l'hai agganciato alla storia del lupo mannaro che si gira nel centro storico di Manfredonia diventa un tassello su cui poter lavorare ti ricordi anche la persona mi ricordiamo la persona più demotivata diceva ma queste cose qui che cacchio servono che distruggeva la motivazione anche degli altri che inquina e che i maestri d'arte erano tutti fuori erano così guardavano 5-6 così parlottavano fumavano dentro ovviamente ma si maffè ovviamente si stranivano poi addirittura dicono questi due vengono da lei ma che vogliono vogliono sapere di Manfredone ma che cavolo queste resistenze avvengono avvengono anche forti di compotenza tutto sta nel saperle gestire e anche in quelle resistenze cogliere quel briciolo su cui poter agganciare e te lo dicono loro sono un po' come i bambini chi lavora con i bambini è un lavoro difficilissimo perché molto spesso anche lì trovi gli educatori dicono non so cosa fargli fare si distraggono sempre sono totalmente cominciano a fare altre cose poi vai a osservarli quando lavorano in classe stanno sempre in piedi e utilizzano solo e costantemente la parola no non fare questo ma che stai facendo Gina vieni qua dove andare che gridano parola postura in piedi allora lì il modus operandi per poter lavorare con un bambino credetemi anche con l'adulto è il gioco è l'unico non esiste altro il bambino per l'età in cui sta non esiste altra forma si dice ma esiste no non esiste altro devi giocare per giocare ti devi piegare e utilizzare i gesti non le parole se utilizzi i gesti con loro i bambini ti seguono per questo sono potentissimi gli arti performativi performative in questo senso perché vanno ad attivare quella dimensione aiutano a farla emergere soprattutto a riflettere su quell'esperienza fare l'esperienza di secondo livello cioè fai il salto e leggi quello che stai facendo lo vedi proprio come un artefatto su quello poi ci innesti la drammatizzazione eccetera eccetera c'è un discorso che è quello sulle rappresentazioni cioè su come io mi rappresento in questa realtà in questo momento che non possiamo fare perché sennò ci dilunghiamo troppo però molto spesso il limite sta nel facilitatore di questi processi non nel contesto cioè su come io sto inquadrando la situazione se io rimango in quel quadrato e vedo che quel quadrato non funziona devo essere pronto a cambiarlo quindi se io insegnante sto vedendo che col bambino non va o con l'adulto che mi può una resistenza non va devo essere pronto io a cambiare l'immagine che mi sto facendo se rimango legato a quell'immagine non risolvo e non vado avanti del problema e il progetto si ferma lì o faccio pagliativi o cose così per portare avanti comunque qualcosa sta proprio un livello di rappresentazione su come io strutturo e sto guardando e interpretando la realtà è in te non sta lì al di fuori di te nel contesto ma proprio una dimensione tua personale che bisogna prendere e destrutturare allora questo meccanismo di destrutturazione per chi lavora con questi con i progetti nel sociale avviene se lo si fa non c'è altro modo lo avviene provandosi però pensando sempre che il limite sta in te non nell'altro se invece dici vabbè il limite è questo e fallisce la prima volta da seconda o terza cambia mestiere il limite sta sempre nel come tu ti stai immaginando la situazione e su come stai interpretando i dati che ti giungono al contesto c'è sempre un altro modo per farlo e se lo trovi è la chiave di lettura per poter andare avanti e molto spesso una delle chiavi che possiamo consigliarvi è lavorare sulla semplicità sulle piccole cose nel momento in cui si fanno questo processo di votazione ex ante emergono sempre le piccole cose che possono diventare le chiavi di lettura grandi nei progetti del social attraverso le arti performative allora siccome abbiamo dovuto comprimere la prima ora perché ce la siamo i primi 45 di bruciati così il caso vi lasciamo tutti i materiali vi li potete andare a vedere online eccetera eccetera perché altrimenti non ce la facciamo adesso come gruppi con i tempi vai Fabio 20 secondi la comunicazione è che come gli altri come gli altri c'è la possibilità di fermarsi a mezza quindi ci hanno chiesto qualcuno di voi si ferma e ci hanno dato il mio uomo perché loro vanno a fare la stella con gli altri però dico il cuore oggi corso 7 euro eccetera in corso di previso su carta pirata con una con una con un po' di sé con un sorello il pomodoro o altro se vuole fermare se vuole fermare se vuole fermare così si ferma un attimo una mano se vuole fermare uno ci fermiamo sì l'actose free non mangiare con noi quindi Fabio c'è un cambio di idea aspetta stanno consultando un attimo attiviamolo allora prima di fare scusa lactose free ok allora velocemente prima di fare la pausa dobbiamo individuare un contesto nel quale lavorare possa essere un quartiere possa essere una scuola possa essere quello che viene in mente meglio se non scuola meglio se non scuola è classica scuola se non scuola la loro del corso quindi un contesto è una situazione problema che dobbiamo poi pian piano sviluppare cioè trasformare quel problema in obiettivi di lavoro in strategie di risoluzione utilizzando poi vedremo come le arti performative per progettare tutta questa macchina quindi è come se avessimo già fatto la votazione ex ante su un contesto è emerso un problema che noi abbiamo catturato e su cui dobbiamo lavorare quindi adesso dovete pensare come gruppo al contesto e al problema tipo per esempio non lo so io mi occupo anche di corsi di formazione per persone in mobilità che sono obbligate da Giovanni Fondi a seguire dei percorsi formativi in aula e che mi piace immaginare che tra i cinquantenni vengono insediati in base di supporto per una formazione tipica in realtà io immaginavo loro questi tipi di percorsi in una situazione molto molto differente solo che non riesco a capire cosa e come e come lo vediamo condividilo col gruppo se il gruppo dice sì su questo problema affronteremo questo problema per esempio sono anni che lavoriamo insieme anche al gruppo l'università e altre persone a Spongano conoscete Spongano sapete la conserva mara no? la conserva mara sapete cos'è? è una specie sì è un patè che fanno piccante con peperoncini e pomodorini ed è diciamo un po' la specificità forte di quel posto perché nel passato erano persone che lavoravano nelle industrie del pomodoro eccetera eccetera poi anche lì la crisi e questo è rimasto un po' l'unico prodotto diciamo che caratterizza quella comunità come ci diceva l'anno scorso quando nasciva in un progetto se tu salvi la semente salvi la cultura riesci anche a salvaguardare tutta quella che è la cultura che ci sta intorno che hanno fatto quindi la persona diciamo che ha attivato questo processo Luigi Mengoli ve ne parleranno oggi pomeriggio con il gruppo Mena Mena Mo ha iniziato a raccogliere nella comunità tutte le storie le canzoni non le classiche canzoni che sentiamo chi va al concertone della notte dell'Atalanta ovviamente ma tutte quelle canzoni che hanno a che fare con il lavoro del mondo contadino in particolare legato a questo aspetto hanno coinvolto gli anziani è nata oltre al gruppo è nata una piccola ensemble che continua a tirar dentro giovani e anziani sempre per far raccontare queste storie fanno una festa il 14 di agosto hanno coinvolto tra i vari anziani diciamo la figura principale che è la Pippina Guida che è una signora ha 11 figli poi vi racconteranno a pomeriggio la sua storia e quindi una parte del paese molto piccolo è stato coinvolto in questo progetto però anche lì sono partiti da un problema hanno individuato in questo caso nella Conserva Mara un prodotto che poteva essere il perno per attivare un po' la comunità e da lì tutti i lavori fatti tramite le arti performative principalmente la narrazione ma anche la musica eccetera sono state delle occasioni per cementare un po' la consapevolezza della comunità che da lì poteva passare un percorso differente la stessa cosa hanno fatto in India ha fatto Vandana Shiva quando c'è stato un processo per brevettare alcune varietà locali che c'erano in India come quello che accade anche sta accadendo ormai da noi ormai l'hanno fatto legge cioè non potremmo più andare in giro ad utilizzare le varietà locali che noi utilizziamo le sementi a Leverano fanno lo scambio di meloni le varietà locali di meloni per esempio questa cosa tra un po' non si potrà fare più perché diventerà illegale cioè non potremmo più aprire il cofano e vendere i nostri meloni già oggi se un contadino vi sto descrivendo un problema se già oggi un contadino pianta una varietà diversa da quelle che vendono dovrebbe abbaccarti le sementi devi pagarti i costi per espiantarlo eccetera eccetera la stessa cosa è stata fatta per esempio anche a Ortelle Sagra del Maglialino Orvi anche lì gli allevatori all'inizio non erano organizzati in gruppo erano tutti allevatori abbastanza spaiati altro contesto problema anche lì far raccontare agli allevatori come si può fare un maialino che abbia delle seguenti caratteristiche in termini anche di protocollo da seguire cosa deve mangiare eccetera nel corso del tempo tutta quell'emersione di storie di racconti la festa che fanno hanno ripreso tutta la storia che facevano dal 1600 della festa eccetera sono riuscito a mettersi insieme e a fare un gruppo di allevatori che effettivamente ha scelto poi di seguire un protocollo di un certo tipo di fare maialini con la marchio Orvi però è nato tutto perché sono andati pian piano a raccogliere quello che erano i vissuri le esperienze i processi di lavorazione le pratiche che stavano dietro a quel prodotto finale che è la festa che voi andiate attraverso le arti performative quindi adesso i contesti sono di varia natura contesti problematici inventate un contesto che può essere anche reale rispetto alle vostre biografie un contesto e un problema quindi questo è il secondo step la valutazione ex-ante è tipo quello che avete fatto voi prima che avete compilato il foglio facciamo finta che è emerso da quella valutazione ex-ante che voi avete fatto è emerso un contesto e un problema e poi vediamo gli strumenti su come lavorare su questo contesto su questo problema quindi unitevi in gruppo e ci diamo massimo 5 minuti 5 minuti per migliorare il contesto e il problema e ricominciamo aspetta 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 prova sentiamo il contesto il problema di questo gruppo abbiamo ipotizzato una classe di non per forza però oltre 50 anni comunque persone in mobilità miste da riorientare e riqualificare del settore industriale il problema è la mancanza di progettualità positiva a futura una mancanza proprio di obiettivi o comunque anche di motivazione alla vita se vogliamo noi abbiamo immaginato una classe di insegnamento in lingua italiana a stranieri partendo dal problema o meglio da un'analisi che spesso viene insegnata la lingua italiana e poi fine e tutto il resto viene demandato viene lasciato a loro in particolare problemi di inserimento a livello anche solo sociale e sfruttamento del lavoro quindi una mancanza di conoscenze quelle possono essere le opportunità e anche poi la difficoltà di convivenza tra varie etnie differenti quindi il problema è appunto quindi l'integrazione non solo attraverso la lingua ma proprio attraverso uno scambio culturale e la creazione di opportunità di socializzazione non si sa non si sa non può essere quello devi strutturarti non la rappresentazione se no guidi troppo l'azione perfetto sono due problemi molto circoscritti su cui si può lavorare adesso facciamo proprio cinque minuti di pausa ma che siano cinque quindi il tempo di andare in bagno sigaretta e via e poi ci ritroviamo qui dovevano essere le dieci e mezzo adesso non le unici e mezzo farò vedere a chi ha aperto il file non ti chiedevo la pausa non ti chiedevo questa pausa non ti chiedevo la pausa di tra una e mezzo vabbè no perché io ho le lezioni no io ho le lezioni ok allora questo è lo schema macro con il quale ci muoviamo abbiamo detto c'è prima la dimensione informativa valutazione ex ante poi passiamo alla progettazione poi la dimensione operativa è quella in cui la progettazione effettivamente si realizza valutazione finale questo è il macro adesso stiamo nella parte di sopra dimensione informativa ancora valutazione ex ante velocemente io non so se si legge però velocemente vi dico tutti quelli che sono gli step nei progetti di questo tipo quando si lavora nel sociale quali sono gli step che bisognerebbe fare se c'è qualcosa che non vi torna ci fermate e di tutti questi step di valutazione iniziale faremo solo alcune di questi passaggi che per noi sono interessanti però almeno avremo un'idea di qual è tutto l'iter che bisogna seguire e poi una volta raccontato questo sui cartelloni verranno messi i problemi il problema generale e pian piano con una metodologia che si chiama logical framework dovremo trasformare quel problema generale in tanti sottoproblemi e poi vedremo dopo come vi dicevamo come verranno trasformati in obiettivi che è l'albero dei problemi iniziamo l'origine della domanda sociale in questo caso è nato da voi in cui state provando a capire qual è un problema in un territorio può nascere perché ci avete letto sul giornale perché ci avete lo zio che lavora alla filanto e non può più lavorare eccetera eccetera o perché per una serie di ragioni voi intuite qual è il problema lo intuite quindi non avete ancora quelle informazioni così diciamo forti e strutturate per poter capire davvero qual è la chiave del problema probabilmente avete appeso uno speech box o una cassettina o un muro nomade in cui le persone vanno a incollare i post-it avete lasciato quindi la possibilità alle persone come nel caso di Manfredonia di raccontarvi cose su quello che è il problema che voi ancora percepite in una maniera molto molto vaga e soprattutto vostra la cosa che si deve fare è lo step successivo una volta capito qual è la domanda è quello di dire individuiamo il problema quindi il gruppo uno ciascuno dei due gruppi viene e il problema che ha individuato lo deve scrivere proprio sotto forma di una frase invece per esempio come è stato nel caso del gruppo vostro che ecco ha detto la frase poi ha aggiunto altre dieci frasi e ha pensato la soluzione vabbè ma perché vi viaggia il cervello c'è la testa calda che ecco quindi però è importante davvero che vi venga formalizzato il problema in questa prima fase perché ci permetterà poi di scomporlo in problemi sempre più piccoli e in problemi aggredibili quindi ok in questo caso una volta individuato il problema si fa l'analisi della committenza chi è il nostro committente nel caso per esempio del progetto di Manfredonia erano vari committenti c'erano committenti che avevano l'interesse istituzionale in questo caso era il comune che diceva guarda io devo noi ci sono le elezioni tra un po' sappiamo che nel paese ci sono una serie di criticità una serie di questioni il mio interesse è quello di riuscire a scavallare le prossime elezioni facendo qualcosa per il territorio legittimo il suo interesse cioè non ci poniamo mai con una idea di giudizio di valore cattivo buono cattivo perché le persone partecipano devono sentirsi che un pezzettino delle cose che loro vogliono possono essere realizzate e daranno in cambio qualcosa il gruppo informale per esempio dei maestri Dasha analisi della committenza lo andiamo a fare da loro è ovvio che non andiamo col registro con l'intervista tipo rilevatore dell'istat ma è tutto un lavoro di negoziazione molto lento magari c'è il nipote che viene a scuola che dice sai mio nonno maestro Dasha cioè dobbiamo capire come entrare anche in quel contesto raccolte un po' queste informazioni dalle varie committenze ci rivediamo o ve la cercate su internet ma ci sono tantissimi materiali bisogna un po' ricalibrare la domanda che ci siamo fatto inizialmente il problema che abbiamo individuato in qualcosa di molto più condiviso rispetto alle persone che ci hanno espresso le loro idee e si fa tramite uno strumento che si chiama la sigla SPO l'acronimo scala delle priorità obbligate cioè ci aiuteranno le persone a capire quali sono le priorità di problemi che devono essere affrontati il politico ci dirà per me la priorità è questa l'anziano ci dirà per me la priorità che nella casa dove sto mi annoio perché ci fanno guardare Mike buongiorno tutto il giorno e mi annoio i ragazzi o i docenti ti diranno i ragazzi hanno questo problema ancora più drammatico non ce lo dicono i ragazzi ma ce lo dicono i docenti e quindi pian piano riusciamo a gerarchizzare tutti i vari problemi rispetto a quelle che le persone ci dicono a quel punto abbiamo sempre una fotografia molto tra virgolette ingenua ancora del problema abbiamo la necessità di supportare questa diciamo la scomposizione del problema attraverso quella che viene chiamata analisi del contesto quindi noi andiamo a vedere per esempio il caso dei maestri d'Ascia letteratura locale scopriamo che ci sono pile e pile di libri fatti diciamo a stampa del paese in cui raccontano tutti i maestri d'Ascia ci sono le foto quando sono andati in Australia che hanno costruito le barche ed erano i più veloci a costruirle rispetto a tutte le altre nazioni che costruivano le barche eccetera eccetera oppure la gazzetta del mezzogiorno o da qualsiasi altro giornale scopriamo che crisi del settore qui a Manfredonia persone senza lavoro eccetera eccetera riusciamo a carpire una serie di informazioni da tutte quelle che sono diciamo la stampa o quelle fonti molto molto meno strutturate quindi può essere appunto un giornale oppure dei volantini sul tema dei maestri d'Ascia di quello della danza dei bastoni erano stati appesi un sacco di volantini in giro volantinaggio contro questa palestra abusiva quindi sono tutte informazioni che dobbiamo farci un super scatolone e mettercele dentro per capire un po' tastare gli umori del paese tentare di capire le diverse visioni come ce l'hanno raccontata i media eccetera eccetera passaggio letteratura locale letteratura scientifica bene noi stiamo andando a lavorare su un caso per esempio di mobilità di lavoratori ci sono altre esperienze interessanti su questo ambito cosa ci dice la letteratura su questo cioè come si lavora con comunità che apprendono con learning community quali sono i passaggi interessanti che la letteratura ci dice la letteratura scientifica sull'argomento senza dimenticare anche l'aspetto normativo che ci arriviamo perché c'è tutto un supporto anche normativo rispetto ai vari passaggi che bisogna conoscere cioè non è un caso se noi per esempio dovessimo fare un intervento come quello che stiamo facendo sappiamo già che lavoriamo sulla didattica per problemi reali sul learning by doing sul fatto che si lavora in gruppo comunità di pratica e abbiamo una serie di costrutti in mente che sono quelli che guidano l'attività che facciamo come diceva non so chi ce lo dirai tu che lo sai la teoria senza la pratica è muta la pratica senza teoria è cieca quindi abbiamo bisogno comunque di recuperare una serie di informazioni scientifiche toste per capire come si risolvono questi problemi partendo dalle buone pratiche già avviate sull'ambito che ha a che fare agricoltura artigianato manifatturiero eccetera ci sono tantissime esperienze sulla riprofessionalizzazione a Reggio Emilia c'è un progetto interessantissimo di mobilità che ha coinvolto 560 lavoratori che hanno tirato fuori una serie di attività interessanti ma potreste andarlo a vedere e quindi casi di studio simili quindi nel caso del vostro progetto quali sono le altre esperienze interessanti in Italia o nel contesto in cui in Europa che hanno risolto in forma il problema che vi siete posto voi e si andrà a vedere quest'altro pezzo quindi a questo punto abbiamo già una base di informazioni di analisi di contesto che ci permette di avere una cognizione molto più chiara del quadro altro aspetto interessante cioè vedete quanto poi sta lontano l'intervento di attivazione educativa tramite le arti performative quanto pre c'è dietro di conoscenza che deve essere scavata una serie di dati secondari socio-economici e socio-demografici sulla faccenda di cui stiamo ragionando quanti sono quei lavoratori da dove vengono in che situazione si trovano quante famiglie hanno quanti figli hanno hanno genitori a carico indice di vecchiaia cioè dobbiamo tentare di racimolare una serie di informazioni diciamo queste ci vengono date in genere dall'istat quelli che raccolgono tutte queste informazioni tutti i dati sono liberi e disaggregati fino alla scala come a Roma di quartiere quindi potete trovare tutti i dati e ci permettono un po' di avere un quadro generale molto più strutturato e informato da quelli che sono definiti i dati secondari e quindi dobbiamo imparare a utilizzare e a leggere anche quelli non possiamo progettare se non abbiamo idea neanche della situazione nel contesto in cui ci troviamo a quel punto fatto tutti questi passaggi il nostro problema può essere scomposto con la logical framework da un problema generale ai problemi come dicevo piccoli più piccoli più operativizzato con i problemi più piccoli poi vedremo come le soluzioni e gli obiettivi vengono realizzati io voglio farvi vedere un po' tutto leader preferite questo potete scegliere voi ci fermiamo man mano facciamo questo e poi vi racconto gli altri oppure vi racconto un po' qual è la struttura che c'è dietro e poi ci fermiamo sulle 3-4 tecniche con le quali andremo a lavorare come preferite man mano ok il step va bene perfetto sentirle tutte magari senza scendere ok ok quindi trasformato il problema scomposto il problema chi sono gli attori che devono essere coinvolti in questo progetto individuazione di stakeholder chi sono le persone che andranno coinvolte nel vostro caso chi potrebbero essere o nel vostro caso chi potrebbero essere oltre a quelli che noi chiamiamo i beneficiari dell'intervento che non sono mai esclusivamente solo beneficiari chi può esserci altro che può contribuire e quindi bisognerà pensare vari attori istituzionali del terzo settore quindi associazioni piuttosto che i gruppi informali come nel caso di Manfredoni erano più gruppi informali che i gruppi formali la lista di partner che vedete alla fine è nata proprio da un'analisi degli stakeholder in cui abbiamo avuto già l'idea di dire bene ma se ti abbiamo chiesto il networking a te per esempio dobbiamo capire come valorizzare tutte le realtà o le reti in cui tu sei in contatto ai fini del nostro progetto quindi l'analisi degli stakeholder si sviluppa con una metodologia che vedremo tra poco però è importante per avere il quadro generale degli attori che potranno contribuire a realizzare il nostro progetto fatto tutto questo pre dice finalmente andiamo osservazione etnografica andiamo a vedere un po' in giro cosa accade quindi andiamo a Manfredonia ci facciamo un giro ci vendiamo un caffè e scopriamo anni fa eravamo a Montepulciano a fare un lavoro sul sistema turistico di Montepulciano abbiamo scoperto che le aziende che si trovano a Montepulciano in salita così le aziende che erano tanto va in streaming che erano partner del comune erano quelle che si trovavano all'ingresso del paese inizialmente l'ingresso del paese era a valle per favorire queste aziende vinicole che si trovavano sopra hanno invertito il cartello del paese hanno messo che l'ingresso del paese è da su e quindi c'erano sempre le prime 3-4 aziende che vendevano il vino a valle non ci arrivava mai nessuno però sono cose che non le puoi vedere se non vai in via etnografica sporcando di un po' i pantaloni a vedere cosa succede in giro e a quel punto ognuno ha c'è un armamentario diciamo degli etnografi abbastanza cospicuo come quello di Gers che andava a incontrare la signora in cui ci si dice prego come possiamo andare a fare un po' di questa osservazione etnografica il muro nomade gli speechbook la videoricerca anche queste sono cose che potete approfondire proprio per darvi l'idea anche quelle sono informazioni che nel vostro scatolone andrete a mettere dentro poi come dice Ezio bene ma se noi dobbiamo fare un intervento di questo tipo o come il vostro qual è il quadro delle politiche delle policies che ci possono dare una mano o nei quali inserire il nostro progetto per prendere un finanziamento o per legarci ad un altro filone un piano sociale di zona eccetera eccetera dobbiamo conoscerle siccome tutti questi processi funzionano se c'è anche la collaborazione istituzionale e siccome non possiamo aspettarci che siano loro a venire a dirci ah vi aiutiamo perché moralisticamente è una cosa bella oppure perché ci serve il voto sta a noi capire qual è l'interesse che dobbiamo suscitare loro perché partecipino al nostro progetto e lo possiamo fare solo se conosciamo bene qual è il quadro normativo delle policies su questi argomenti su questo c'è quando si fa la progettazione su sociale molto spesso si rivolge soltanto al comune cioè quello più gettonato il piano sociale di zona viene totalmente trascurato ed è un grave difetto perché il piano sociale di zona che mette con sé una serie di comuni ha molte più risorse rispetto al comune singolo ovviamente se quando si va al comune e si chiede io dico no un legge di stabilità non abbiamo una lira non vi dicono ovviamente andate anche a guardare il piano sociale di zona e quali sono i criteri che si sono dati il piano sociale di zona perché ogni piano sociale di zona ogni 8 anni c'è un tavolo collegiale in cui vengono invitati sempre i soliti noti e stabiliscono su quale ambiti specifici del welfare lavorare allora in genere quello culturale rientra sempre però esatto quella piccola voce viene costantemente trascurata da chi lavora invece nel sociale già da tanto tempo in uno dei piani sociali di zona invece andare a interessare il presidente o il consiglio del piano sociale di zona a dire scusate noi stiamo per far partire questa attività c'è la possibilità di avere un'integrazione un partenariato e via dicendo diventa molto utile ma è spesso il grande assente nella progettazione nessuno lo guarda nessuno se lo legge nessuno ma guarda il piano sociale di zona di quel progetto lì per coinvolgere gli anziani dell'università della terza età si è scoperto che c'erano dei finanziamenti per dei piccoli servizi di welfare che potevano essere fatti per esempio più in termini di care quindi non di cura ma di empowerment e di assistenza alle persone su una misura specifica dicevano possiamo aiutare possiamo finanziare progetti che rimuovono gli ostacoli agli anziani gli ostacoli di inclusione sociale in soldoni cosa significava e badanti fanno un servizio che se voi andate a vedere anche la maggior parte delle realtà che funzionano o vedete l'esperienza dei nonni di chi ha i nonni vedete che molto spesso sono lì e sono cazziate dai figli perché i figli riversano sulle badanti quelli che non possono dire ai nonni anziani oppure li vedete alla televisione così alla sedia quando era mia nonna per esempio c'era la signora che stava da lei mia nonna e guardava una televisione fissa tutto il giorno il progetto finanziava la possibilità di andare a capire quali erano le competenze di queste signore che potessero diventare occasione per fare anche un'attività diciamo ludico di intrattenimento a partire da quello che loro erano quindi scopri che c'era una che suonava l'arpa un'altra che sapeva ricamare eccetera eccetera tutto quello è stato emerso sono diventate le competenze su cui fare servizi di welfare molto diversi dalla classica assistenza allora per scoprire questa faccenda qui probabilmente se si andava a spiluccare il piano sociale di zona di lì si scopriva che un finanziamento poteva andare in quella direzione e un pezzo di sostenibilità del progetto te lo sei te lo sei tirato fuori c'erano molte attrici anche di queste persone dell'associazione dei badanti e sono state quelle che nell'università della terza età hanno attivato la fase di emersione di narrazione con il raccolto delle storie eccetera eccetera e a quel punto una volta che abbiamo un po' tutto questo diciamo bene proviamo a pensare come un'arte qualsiasi delle arti performativi come quelle di cui abbiamo parlato può essere interessante utilizzata per attivare la comunità quindi dall'iniziativa spot arte performativa vengo a fare nel tuo quartiere una performance o non so che a come tutto questo diventa invece qualcosa che sta all'interno di un dispositivo molto più grande grazie a tutti 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 grazie a tutti